E t'ame, tu lo sai, io voglio menassare, e tu non pensa a me. Io voglio menassare, e tu non pensa a me. La notte tutte dormano, e io da fuori a dormire, non sanno a me e una miglia, ma sento a scivolire i quattro sono, a una, a due, a tre, io. Io voglio menassare, e tu non pensa a me. Io voglio menassare, e tu non pensa a me. Io voglio menassare, e tu non pensa a me. Io voglio menassare, e tu non pensa a me. Io voglio menassare, e tu non pensa a me. Io voglio menassare, e tu non pensa a me. Io voglio menassare, e tu non pensa a me. Io voglio menassare, e tu non pensa a me. Io voglio menassare, e tu non penso a me. Io voglio menassare, e tu non pensare, e tu non pensare, e tu non pensa a me. La chiesa sulla destra, se tu vedi là, e ho corso in mezzo a prati di anche di luna, che sta percorando in una gente, che giovanile in vecchia, mi son detto a lui, verrà, verrà, verrà. La chiesa sulla destra, se tu vedi là, verrà, verrà, verrà. La chiesa sulla destra, se tu vedi là, verrà, verrà. La chiesa sulla destra, se tu vedi là, verrà, 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 verrà. La chiesa sulla destra, se tu vedi là, verrà, verrà. La nostra vicinanza, la nostra preghiera e l'aiuto concreto. La violenza sugli anziani è disumana, come quella sui bambini. e con voi, con il suo aiuto voi siete e continuerete ad essere memoria per il vostro popolo e anche per noi, per la grande famiglia della chiesa. grazie. Dai pace secondo la tua volontà, tu che vivi il re nei secoli dei secoli. Amén. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. queste persone aspettano tutti, hanno avuto tutto il timbro e tutte le cose che abbiamo recitato fino adesso. E' vero? Mi potete dire i vostri nomi? Perché succede una rivoluzione? Non lo volete fare la rivoluzione, mi fa piacere. Mi fa piacere che non la volete fare. ma dove si può passare la basilica? Sì. Ma che vergogna, ma che vergogna! Il passaggio libero deve passare un'ambulanza. Deve passare un'ambulanza, lasciamo il passaggio libero cortesemente. ma che un'abbia. È un'ambulanza. Grazie. Grazie a tutti. Siamo alla stazione di Appia Antica, qui siamo sulla metro di Roma, ci troviamo sulla metro di Roma alla stazione di Appia Antica e qui sono tutti i bovinesi. Forse avranno affittato questo trenino qua e ce ne sono anche di foggia, non solo di bovino ma anche di foggia. Foggia è la provincia di Foggia. Noi dobbiamo scendere ad Anagnina che è l'ultima stazione. Adesso dove stiamo? Noi dobbiamo stare ancora su questo trenino, comunque ci troviamo abbastanza bene. C'è chi sta in piedi, chi è seduto, chi dorme già. C'è anche chi dorme. Ha finuto? Chi dorme? Ah non dorme, scusi non dorme, abbiamo già passato la stazione di Cesar. Noi dobbiamo stare in mezzo a quei piedi. A dove? In mezzo a quei piedi. Ah, la c'è qua. Grazie. 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 Grazie.